Gesù paragona il mondo ad un grande campo da coltivare, ma troppo spesso ci aspettiamo frutti che non abbiamo mai seminato. E allora è tempo di semina! Ecco alcuni pratici consigli per la tua missione. Innanzitutto individua il tuo campo di lavoro spirituale, poi ordina i Vangeli di Giovanni nella nuova versione tascabile e ancora preparati in preghiera prima di iniziare la tua semina e infine semina la parola di Dio. Ordina subito la tua quantità di Vangeli di Giovanni nel formato pocket. Sono disponibili in box da 200 e 500 copie. Ordina subito allo 0975 37 22 10 oppure ancora più comodamente sul sito www.paroledivita.org